Approvata all'unanimità martedì nel Consiglio regionale della Campania, la proposta di legge sul turismo itinerante è presentata dal capogruppo di Italia Viva Tommaso Pellegrino, primo firmatario. Il turismo all'aria aperta è sempre più apprezzato e la vacanza itinerante è ormai una tendenza diffusa, come dimostrano anche diversi travel blog che invitano a collegare località e attrazioni. L'approvazione di questo testo normativo, ha detto Pellegrino, è un importante risultato per la Campania perché ci aprirà concrete opportunità, visto che il turismo itinerante genera un fatturato di circa 3 miliardi di euro ogni anno in Italia. Questa forma di turismo è perfettamente in linea con il patrimonio della nostra regione e offre opportunità anche ai piccoli centri e alle aree interne che spesso non ricevono l'attenzione che meritano. Nella stessa seduta del Consiglio regionale della Campania è stata approvata anche la proposta di legge per il riconoscimento e la promozione degli ecomusei a firma 5 Stelle. La proposta riconosce e promuove gli istituti che operano per il recupero del patrimonio culturale, delle specificità paesaggistiche, delle pratiche storiche e delle popolazioni locali, della conoscenza degli ambienti di vita tradizionali tramite le attività di ricerca e la creazione di percorsi turistici e culturali. Si tratta, hanno detto dai 5 Stelle, di strumenti importanti di sviluppo locale e di partecipazione dei cittadini che impatteranno notevolmente soprattutto nelle aree rurali. Fumata nera per gli aiuti agli operatori turistici di Maratea, il Consiglio regionale della Basilicata, che avrebbe dovuto riunirsi su varie questioni, tra cui quelle relative al dissesto idrogeologico che fino a qualche settimana fa ha colpito il territorio lucano, non si è svolto per mancanza del numero legale. Il Consorzio turistico di Maratea era riuscito ad inserire, dopo gli ennesimi gravi danni subiti dalla cittadina con le piogge di metà giugno, due punti all'ordine del giorno del Consiglio regionale lucano relativi alla richiesta di ristori e sgravi fiscali per gli operatori turistici. Alla verifica però del numero legale sono risultati presenti in aula solo 8 consiglieri e la seduta non si è svolta. I casi sono due, ha commentato il consigliere regionale del PD Roberto Cifarelli, tra i presenti in aula. O i consiglieri sono contro i ristori per gli agricoltori danneggiati dalle piogge di maggio e giugno e per gli operatori economici di Maratea, oppure vi è una sottovalutazione dei problemi. In un caso e nell'altro sarebbe un comportamento gravissimo che consegna la cifra di quanto bene si vuole alla Basilicata e ai suoi cittadini. Lo scorso 16 giugno il vicepresidente della regione Basilicata, Francesco Piro, aveva visitato i luoghi danneggiati dalle più recenti piogge a Maratea, definendo la situazione un disastro e assicurando da parte del presidente Bardi e di tutte le massime cariche regionali il massimo impegno ad affrontarne le problematiche.